La caratteristica costumanza della sicola Scicli è la cavalcata che si svolge in occasione della festa di San Giuseppe. 200 uomini nel pittoresco costume della contea, su cavalcature sfarzosamente bardate e infiorate, partecipano alla cavalcata che vuole ricordare la fuga in Egitto. Un'azione storica che vuole ricostruire un fatto d'armi avvenuto nel 1091 fra le milizie del conte Ruggero il Normanno e le orde saracene. Sulla piazza del paese si erge una costruzione che raffigura la nave saracena dalla quale sbarcano gli invasori bianco vestiti. Fallito il tentativo di conciliazione fra i condottieri, ne nasce una movimentata tenzone che finisce con la sconfitta dei saraceni, fugati dalla Vergine Amazzone. Sulla piazza del paese di San Giuseppe